dall'agropoli ad agropoli quattro mesi dopo dalla sconfitta imprevista e scioccante alla vetta più luminosa che ci sia calcio mistero senza fine bello giuombrera fu carlo che parafrasava guido gozzano che a sua volta faceva il verso al sommo lighieri questi ultimi innamorati di una donna angelicata o giù di lì il primo della sfera magica dunque tutto iniziò proprio contro i delfini già la cavalcata fin qui entusiasmante degli uomini di mister roberto taurino presse avvio quel pomeriggio di sole abbacinante nuvole rada nel cielo sopra il città degli ulivi una zampata di cozzolino schiuse chiuse la contesa al contempo il leone nero verde ferito di sorpresa reagì ringhiando molto e aspro ma in darno fioccarono occasioni da rete ma niente seguirono retese i protagonisti si guardarono profondamente negli occhi nel segreto chiaroscurale dello spogliatoio e decisero di proseguire l'avventura insieme da uomini autentici nonostante la procella la mano del timoniere francesco rossiello non tremò neppure un attimo ed è stato così un cammino di gloria 16 risultati positivi consecutivi con molte più vittorie che pareggi l'ultimo successo coram italico popolo televisivo un 2 a 0 senza appello alla bestia nera fasano stavolta uscito a capochino dal comunale sull'erta di via megra e ore di giornata il sovrano del gol cosimo patiarno detto chicco regale straripante carismatico due perle del suo repertorio quel pomeriggio il cuoio insaccato nella rete sguarnita dopo bribling al portiere e il penalti letale a buggerare il gol chi per l'avverso sarà ancora lui a guidare la truppa con tutti gli effettivi a disposizione dell'alchimista salentino nella trasferretà in terra campana a casa dell'ex angelo cimadomo capitano maidomo per un insidio su testa coda con una freccia in più nel tour cassos il trequartista mauro bollino ex bari e sicuro leonze tanta c ed per lui nella pur giovane carriera un rinforzo vero insomma che testimonia la volontà della società di dare maggior solidità al sogno da continuare ad inseguire